Lutto cittadino a Stornarella, nel Foggiano, in occasione dei funerali di Adam, il ragazzo di 12 anni ha negato il 14 giugno scorso in una piscina. Le esequie sul Sagrato della Chiesa, Beata Vergine, Santa Maria della Stella. Il sindaco del centro Foggiano ha proclamato il lutto cittadino, disponendo anche la chiusura di tutte le attività commerciali e imprenditoriali del luogo. Il 14 giugno scorso, il bambino italiano di genitori senegalesi stava facendo un bagno con un amico in una piscina di un centro privato di Stornara, quando ha avuto un incidente. I sanitari del 118, intervenuti sul posto anche con l'elisoccorso, hanno trasportato il ragazzino al policlinico riuniti di Foggia, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Tre giorni dopo, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del bambino. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della procura di Foggia e dei carabinieri del comando provinciale.